Buon venerdì amici di Super J. Una circolazione depressionale in quota si posiziona nel Mediterraneo occidentale ed avanza lentamente verso la penisola. Domenica trarrà sé correnti fresche nordatlantiche che si tufferanno in Italia provocando una vera e propria burrasca, foriera di forte instabilità ed un significativo calo termico più evidente dal lunedì prossimo. In Abruzzo vivremo un venerdì ed un sabato molto simili con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e instabilità pomeridiana che potrà presentarsi sui monti ma anche in collina e occasionalmente fin sulle zone costiere. Domenica il tempo andrà invece gradualmente peggiorando sin dal mattino in tutta la regione con accentuata instabilità che potrebbe protrarsi anche la sera e la notte. La ventilazione sarà a regime di brezza fino a sabato, domenica sera giungerà la tramontana a partire dalle zone costiere. Il mare sarà quasi calmo, domenica poco mosso. Le temperature stazionari oggi e domani con massime comprese tra 30 e 36 gradi, in diminuzione domenica tra 27 e 33 gradi, le minime comprese tra 16 e 26 gradi. Per l'aggiornamento meteo è tutto, a venerdì prossimo. Grazie. Grazie.